Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti segnali della conquista del mondo Allora signori, io spero abbiate passato un buon Natale, oggi dovrebbe essere Santo Stefano, dovrebbe essere sabato Se il portale temporale nel quale io registro e poi vi pubblico i video dovrebbe essere corretto Oggi dovrebbe essere 26 Santo Stefano, quindi spero che abbiate passato un buon Natale, una buona vigilia E state oggi anche passando un buon Santo Stefano, spero di riuscire a farvi compagnia in questi piccoli 10 minuti Signori, prima di partire dal video io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per gli suggerimenti e per il supporto che è data a questa serie e al canale in generale Vi ricordo di iscrivermi sui social dove mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook Dove vi aggiorno sui video che escono e sulle live che andiamo a fare sia su questa piattaforma che su quella viola degli stream Infatti mi trovate anche là come Maullo941 Detto questo signori, non perdiamo altre chiacchiere Andiamo veloci veloci così vi lascio liberi e potete godervi il video e potete godervi il vostro bellissimo Santo Stefano con la vostra famiglia, amici cari Ok signori, l'altra volta ci siamo lasciati proprio qui, siamo a fine marzo Io volevo vedere semplicemente quante partite sono rimaste signori perché noi ora siamo in una fase un attimino X Allora rimane in campionato contro questi tizi di qua che non so chi siano, va bene Allora una, 4, 5, quindi siamo a 6, 7, 8, altre 8 partite, va bene, va bene 8 partite possiamo ancora, giocatore squalificato, va bene Vasella salterà all'ultimo incontro, va bene E noi Vasella non lo facciamo giocare Brutto, stupido di un Vasella che si è fatto buttar fuori Andiamo avanti con questi allenamenti Che facendo la simulazione dovrebbe farli lui tranquillamente Andiamo avanti, andiamoci a giocare la partita Poi dovrebbe, ad aprire dovrebbe arrivare il nostro nuovo osservatore In realtà il nostro nuovo osservatore dovrebbe arrivare gli osservatori Vediamo se ci porta qualche giocatore interessante Ok, siamo in partita Il prossimo incontro è fondamentale Wilding vuole giocare Wilding dovrebbe essere tra la schiera dei titolari Secondo un'antica leggenda Secondo un'antica leggenda Wilding dovrebbe essere fra la schiera dei titolari Può essere? Ricordo male io Son Godi augurerà che non è Wilding Infatti sì, ma giochiamo con i titolari signori Giochiamo con i titolari questa Questa la andiamo a giocare con i titolari Mellor così, Vasella scontra la squalifica Vediamo che famo, come parte il video oggi Ai ai, ai ai No, perdiamo contro l'Holdam Mamma mia signori, siamo messi male Mamma mia, ci stiamo giocando tutto Mamma mia Ci stiamo giocando tutto il buon vantaggio Che ci erano fatti a metà campionato E ce lo stiamo giocando tutto ora No, io non me lo faccio Un'altra annata Allora, l'Holdam è 41 Una partita in più E Bolton due partite in più Ok E noi riusciamo Il quarto posto Ho bisogno di giocare più stance Il nostro Mel Gibson si lamenta signori Mel Gibson si lamenta E il tuo posto di squadra non è a rischio Soprattutto perché sei tra i panchinari Quindi chi ti smuove da quel posto zio E Wilding è contento Continua a lavorare per migliorare Mi hai fatto cacare Wilding mio Senti, hai detto palo palo palese palese Pane pane vino vino Hai fatto cacare Allora Andiamo a Aprile signori Aprile dolce dormire Speriamo che i miei non si addormentino Ma continuano anzi A giocare bene E giocare Ora come ora stiamo giocando Una cacca Ora come ora stiamo proprio giocando Una cacca signori Giovane vuole andare via Felix Stevens Vuole rescindere il proprio contratto Chi sei Felix Da quando hai la possibilità di parlare Felix Da quando ti è stato dato Nel contratto della primavera C'era la possibilità Che tu potessi parlare Stevens 61 Esterno sinistro Stevens mio Perché devi rompere le scatole Alle persone che ti vogliono bene Va bene Ti proponiamo Promuovi in prima squadra È un 61 signori Non è da buttare via Non vedrà il campo Non vedrà il campo Però ce lo teniamo lì Ce lo teniamo lì signori Facciamo simulazione veloce Non c'ho voglia di perdere tempo Vediamo Il nostro osservatore Che ci I nostri osservatori Che ci portano di buono Signori Vediamo un attimino Allora Rese conto squadra primavera Non ci interessa Rese conto Giovani talenti disponibili Mi sa che Abbiamo finito I giovani della Scozia 71 94 Milne Oliver Il nostro Oliver Twist Signori Il nostro Oliver Hutton Oliver Hutton è più simpatico Oliver Milne Milne Oliver Mel 71 94 Ma io ti porto a casa Zio Non sei per niente male Con questo ricciolo strano 56 68 No 51 69 No È stato un piacere Tornate da dove sei venuto Poi Vediamo l'altro Uno l'abbiamo trovato Signori Joshua Darli Irlanda Abbiamo Joshua Che è un centrocampista Il nostro Purdy Joshua 73 89 Ma io ti porto Ma dai Col cappellino Quando lo ritrovo io Sloan No Guardabile Andrew Il nostro Andrew Un portiere 70 70 94 Ti porto a casa subito Jensen Kilpatrick 55 75 Sembri buono Ma Vabbè Ti osservo ancora meglio Qui abbiamo Liam Connor 69 94 Ti porto a casa Poi ti vediamo meglio Gene McGuinness La birra Signori 17 anni 351 71 No Lo mandiamo via La ricerca C'è La ricerca Tutti i giovani Saranno rifiutati No Aspettate Jensen Kilpark Kilpark 55 75 No dai Ce l'abbiamo Gli esterni Ce l'abbiamo Signori Vediamo l'ultimo Dall'Inghilterra Albert Cowan 17 anni 67 83 No Tell Barrett Sportier Ne abbiamo fin Troppi Arthur Naylon 64 82 Questo sa fare Tutti i ruoli Del mondo Dice per sé Per noi Io so Fa tutto Qualcosa Riuscirò A trovare Ma no Sicuramente Non dai nostri Gamberetti Signori Sicuramente Non dai nostri Gamberetti Allora Prima di andare Alla partita Dobbiamo per forza Andare a vedere Chi ci siamo portati A casa Che io non ricordo Minimamente i nomi Signori Allora Dovremmo avere Un altro portiere Quindi spike Ok Poi abbiamo Lorry Che promette Forse pure Meglio di spike Potenziale 70 94 È quasi A 65 Lui in potenziale 68 88 E mi sa che Questo spike È molto meglio Scusatemi Andrew Il nostro Andrew È molto meglio Poi abbiamo Buckley Ok Potenziale 74 71 71 71 71 94 Un esterno Destro Cioè abbiamo già Barrett Che è diventato Un esterno Destro Signore Comunque Un 52 E c'è un potenziale 79 93 Diciamo Parliamone Cash Che sta diventando L'attaccante Scott Va bene Signore Non ricordo Minimamente Chi Che abbiamo Preso Di giovani Però va bene Tranne il portiere E quell'altro Tutti e tre Disponibili Sono tornati Tutti e tre Già Tu sei Inguardabile Zio Mamma mia Una stelletta Solo Sei inguardabile Osservatore Disponibile Licenza Osservatore Signori Guarda Una stelletta Dai Ma neanche Nei peggior bar Di Caracas Lo si trova Un osservatore Così Il problema Che non abbiamo Osservatore Da poter comprare Vabbè Meglio due Buoni Che Quello lì Che portava Solamente cose brutte Fai seguire Il giocatore Allora Tu Andiamo in Costa d'Avorio Andiamo In Camerun Per forti Tre mesi in Camerun Qualsiasi Dai così E tu Invece Mi vai a cercare Pure in Africa Pure in Africa Mi vai in Costa d'Avorio Dove sta la Costa d'Avorio Mi sono persa La Costa d'Avorio Mi sono persa La Costa d'Avorio Tre mesi Dai così Mangiamoci Tutti i soldi Signori Tutti i soldi Voglio Voglio gli africani Che corrono Dai così Incercare una Giocatore Perfetto Questo video È andato tutto Così Sul rinvio Penso che possiamo Giocarci l'ultima partita Di questo video Signori Perché Penso che Sto attraversando Un buon momento Slow vuole giocare Slow è con i panchinari Diamo fiducia ai panchinari Signori Visto che I titolari Hanno perso Pesantemente Vediamo Se contro il Cutlam Che è scontro diretto Scontro diretto I nostri panchinari Riescono a far risorgere Gamberetti Vediamo Che ci fanno Perdiamo 3 a 1 Mamma mia Abisso totale Abisso totale Caduto proprio Terribile Terribile Signori Noi stiamo giocando Col fuoco Noi stiamo pesantemente Giocando col fuoco Sì Stiamo pesantemente Giocando col fuoco Siamo sesti Con due partite in più Rispetto al Bolton Una partita in più Rispetto al Forest Green Abbiamo però Pari punti Col Bolton E un punticino in più Rispetto al Forest Doldam ci ha superato Con una partita in più Mamma mia Mamma mia Credo che hai potuto Aslo Ma te che stai a parlare Non vedi più il campo Nemmeno da lontano Nemmeno per Guardare di che colore È l'erba Praticamente Non lo vedi più Ma proprio Ma proprio Babà Mamma mia Andiamo avanti signori Arriviamo alla prossima partita Arriviamo alla prossima partita Simula tutto Dai è così Arriviamo alla prossima partita E vediamo Contro chi giochiamo Non lo so Questa la possiamo Simulare Sì simula tutti questi esercizi Va bene così Arriviamo alla prossima partita E chiudiamo questo video Per oggi Signori Va bene Prostima partita No del Barrow Welding vuole giocare Va bene Io non tocco niente Rimaniamo così E vediamo cosa succede Va bene signorini Detto questo Io vi ringrazio Vi ringrazio per questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao Ciao